Ciao ragazze, come vedete sono le 11.05 ed è sabato 14 febbraio, quindi è appena terminato il giveaway Sono sul sito random.org, ho qui il mio quaderno dove mi sono segnata tutti quanti i nominativi con i numeri e in totale siete state 146, quindi inserisco qui da 1 a 146 e vediamo chi è la fortunata Il numero 24 mi risulta essere Marylilla94 che ha commentato su Youtube Vado a controllare Allora Ecco qui 19, 23, 24 Quindi la vincitrice è appunto Marylilla94 e scriverò il suo nome anche nell'info box, aspetterò che mi contatti Insomma, io per correttezza, so che magari questa può sembrare un po' una cosa antipatica Ma voglio chiedere alla vincitrice anche lo screenshot dell'iscrizione al mio canale Perché soprattutto su Instagram si sono create un po' di impicci Perché comunque a me non sono arrivate tutte le iscrizioni delle persone che hanno partecipato al giveaway Persone che dicevano di essersi iscritte e non l'hanno fatto Persone che non hanno mai letto il regolamento Quindi a me, proprio per chiarezza, insomma, mi sembra anche giusto fare questa cosa E quindi niente, aspetto che la ragazza mi contatti In caso non mi contattasse entro una settimana, così 10 giorni, insomma E farò una nuova estrazione Vi ringrazio tutte quante per aver partecipato E vi mando un bacione Spero che continuate comunque a seguirmi Ciao!